Musica Musica Roncitelli Imperial Va Veramente stiamo per partire Musica 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 Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Evviva! Prima di andarcene definitivamente da questa piazza vorrei chiamare i tre templari perché il Vescovo darà a loro una benedizione speciale. Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Venite, venite, domani cavalieri, a voi affido giombo, perché lo possiate proteggere e con voi possa crescere e diventare tutto nella sicurezza. Per questo vi benedico, per il benedito a voi, tutti voi cittadini di Masora. Arrivederci! Grazie! 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 Grazie!